Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna. La nuova settimana è iniziata con un nuovo peggioramento sulla nostra regione che ha portato precipitazioni sparse ancora una volta nevose a quota di media collina. Proprio in queste ore tra la sera e la notte continueranno questi deboli rovesci anche sulla Romagna soprattutto in Appennino dove continuerà a cadere la neve per lo più debole a quote comprese tra 600 e 800 metri. Poi la giornata di martedì si aprirà ancora una volta con tanta nuvolosità con ultime precipitazioni su bassa Romagna nevose a quote comprese tra 400 e 700 metri ma nel corso della giornata ci attendiamo ampie schiarite a partire dall'Emilia che raggiungeranno anche la Romagna entro la serata. La ventilazione sarà sostenuta sulla fascia costiera di Bora il mare molto mosso. Le temperature saranno in calo in Emilia avremo valori compresi tra 0 e 4 gradi mentre sulla Romagna le temperature saranno un po' più alte comprese tra 4 e 6 gradi. Le temperature massime saranno comprese ovunque tra 8 e 10 gradi. Per ora è tutto un caro saluto da Andrea Raggini Grazie a tutti i nostri spettatori